Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. Allora oggi prenderemo le manette, le monete, qui le prendo al volo. Voi dite come fare così? Tipo... Pup! Poi si possono fare anche con due monete volendo. E tu vuoi dire due monete, una moneta o cosa volete che sia? Anche con tre. Sì. Adesso è più difficile. Vediamo se riesce. Sì dai, speriamo. Una pila di monetine. Vediamo. Voi direte ma non ci riuscirà, è una pila di monetine. Guardate questa è una pila di monetine. Una pila di monetine. Vediamo. Guardate la pancia eh. Sto cercando di buttare un po' giù. Ma dove? Non è giù per tutta sta pancia dai. Eh, un po' di comicità dai, non fa mai male. Un po' di allegria. Attenzione. Et voilà. Eh? Con questo io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e un abbraccio grosso a tutti voi. Ciao! Alla prossima nei video YouTube. Ciao a tutti. Buona giornata e buon pomeriggio. Buona serata e buonanotte per stanotte.